La strategia del martello pneumatico. Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, continua a colpire con blitz ripetuti le zone a più alta tensione sociale, i quartieri più degradati, le strade, i parchi, le piazze dove i cittadini lanciano l'allarme sicurezza. L'ultima operazione porta 30 donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, delle Fiamme Gialle, della Polizia Locale, nei giardini di Via Bachelet, a Campomarzo, nel quadrilatero di Viale Milano, Viale Torino, Viale Genova e Viale Firenze, in Via Tornieri, nella zona di San Pio X, in Viale Santi Felice e Fortunato e nel Cuore di Vicenza, in Centro Storico. Vengono identificate 304 persone, di cui 109 straniere e 36 con precedenti penali o di polizia. Verificati 97 veicoli e 19 locali. Al termine delle operazioni il questore ha firmato 11 avvisi orali, 11 fogli di via obbligatori da Vicenza e 6 ordini di allontanamento dal territorio nazionale, nei confronti di un ganese, 3 nigeriani, un cittadino della Mauritania e uno del Sudan, con a proprio carico precedenti penali o di polizia e non più in possesso dei requisiti per restare in Italia. Numeri che, uniti a quelli delle altre operazioni della questura, dimostrano che la strategia del martello pneumatico funziona.